Il futuro dell'architettura? Beh, il futuro dell'architettura ci sono molte cose che possono essere discusse, ma una cosa che mi interessa particolarmente in questo momento si tratta di materiali, ma materiali strutturali. Quindi noi abbiamo la fortuna di lavorare su un progetto di cui non posso parlare molto molto, ma un pochino, che sarà uno dei primi edifici multipiano costruiti con una struttura esclusivamente di legno, o diciamo principalmente di legno. E quando si parla del futuro in architettura, per definizione l'uso del legno in Europa crescerà moltissimo. In America ovviamente lo è già da decenni e decenni. Da oltre 50 anni nel continente nordamericano producono più alberi di quelli che tagliano ed è un metodo costruttivo estremamente flessibile, estremamente easy, poco costoso e che reagisce molto bene a terremoti, a uragani e paradossalmente anche al fuoco. E questa, tra virgolette, tecnologia di sicuro verrà sempre più usata in Europa perché la generazione di legno per la costruzione richiede molta meno energie di altri sistemi come il cemento o l'acciaio, ma anche perché il legno è un contenitore di CO2 che naturalmente pulisce l'atmosfera ed è totalmente riciclabile. Dunque io credo che questa è un'area molto interessante nello sviluppo dell'architettura in Europa in generale e che offre delle opportunità per tutti di noi, sia creative che tecniche, per sviluppare altri skills che saranno sicuramente molto utili.